Io devo ringraziare il circolo PD di Paola, devo ringraziare Graziano di Natale, devo ringraziare i giovani di Paola che hanno dato vita a questo punto di incontro. Devo ringraziare perché in una città come Paola avere un punto di riferimento come questo è importante, significativo, stanno sorgendo dappertutto punti di incontro in tutta la Calabria. Questo è il segnale di un'attenzione, di una partecipazione larghissima che si sta realizzando nel corso di questa campagna elettorale.